Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Shui Koden 3 ed è successa ragazzi una cosa incredibile. Stavo ovviamente giocando per i fatti miei, stavo un po' livellando i personaggi, stavo cercando di expare un pochettino anche le abilità magiche e le abilità che si possono apprendere ovviamente nella scuola. Ragazzi ho vinto il primo premio alla lotteria. Ho comprato 5 ticket praticamente qui al villaggio delle papere e cercando di scoprire un po' come funziona il meccanismo delle lotterie che credo sia comunque a tempo, non credo che sia a spostamenti perché ero convinto che restando nella locanda, facendo passare il tempo nella locanda il gioco avanzasse quindi mi permettesse di ottenere subito i risultati della lotteria invece no, credo che siano proprio tempo di gioco effettivo quindi tu man mano che giochi fai passare il tempo e ogni tot, credo che sia circa 30-40 minuti, una roba del genere escono i risultati della lotteria. E ragazzi vi giuro, ho vinto il primo premio probabilmente vi farò vedere uno screen che vi metterò qui a schermo è praticamente così, è totalmente a random quindi, cioè paradossalmente si può farmare cioè non so se effettivamente il gioco riconosce i ticket in modo univoco o se magari li considera separati cioè nel senso che se io salvo e poi carico cambiano i risultati dovrei provarla questa cosa e sicuramente la proveremo però per il momento andiamo avanti andiamo avanti con la storia perché paradossalmente parlando abbiamo circa un'ora e mezza di gioco effettivo per controllare i numeri i numeri della lotteria prima di perderli definitivamente ancora non ci credo credo che queste siano le rovine di cui abbiamo parlato nient'altro qui attorno diciamo corrisponde alla descrizione però non posso prometterti che troverai quello che stai cercando non ti preoccupare gli scout di tinto devono aver ragione lascia far a me non qui milady milady sei sicura di questo? state facendo state impersonificando delle statue forza cercate di guadagnarvi il vostro stipendio ma non volevamo interromperla eccoci milady che cosa ne facciamo di ora? non stanno non si stanno comportando come dei nemici ma non sono sicuro del loro piano dei loro piani di sicuro loro non sono nostri nemici ma ci servono diciamo ci servono degli alleati come questi? ve l'ho detto sergente yugo l'ha trovato beh almeno abbiamo avuto qualche momento di riposo siano tipo le rovine dei sindar praticamente bene ci siamo ci siamo riposati adesso muoviamoci boh ovviamente telecamera sempre al solito e diciamo che per essere per playstation 2 questo shui godent 3 al momento è abbastanza deludente diciamo che come mappa come esplorazione come anche combattimento se devo essere sincero un po' deludente questo shui godent al momento vedremo se magari si riprenderà più in là il passaggio sembra piuttosto diciamo scoperto c'è qualcun altro qui stai giù potremmo imparare qualcosa ma ci sono c'è un mago sembra oh guarda che figo quindi la protezione non può essere scavalcata oddio ma sono veramente le rovine dei sindar grazie alla tecnica antica dei sindar o quella che potremmo chiamare magia molto impressionante non arrendetevi anche se rischiate di distruggerla che cosa ce ne facciamo di queste informazioni? non vedi che sono cattivi e io ho detto ovviamente non sono dei nostri alleati mi ledi credevo che fosse stata credevo che fosse state voi a dire di rimanere in silenzio so quello che ho detto cosa ti fa pensare che siano cattivi? quell'uomo mascherato sta sicuramente nascondendo qualcosa e guarda anche quell'altro tutto vestito di nero che mi dici di lui? la sua faccia sembra senza fiducia cioè priva di fiducia dice non facciamo le cose di fretta abbiamo tante altre cose da fare nel frattempo non dovrebbe volerci troppo oddio un occhio rosso e un occhio blu prendiamo quello che ci serve e andiamocene tutto quello che prenderemo non è altro che caos non è quello che vogliamo caos mi calza pennello oh oh Sara che succede? niente uh ci è mancato poco ci avevano quasi scoperto forse perché tu continui a parlare? che hai detto? che mi hai detto? perché non decidiamo che cosa fare? non possiamo nasconderci per sempre a ragione andiamo a parlarci è la strada migliore cioè il modo migliore per sapere quello che ci fanno veramente qui sì mi sembra abbastanza ragionevole ma sappiamo già che cosa sono e che cosa sono? cattivi perché non mi ascoltate? andiamo Hugo ok sei quella scioccata fermi come come vi permettete di andare avanti quando ancora non ho finito di parlare eccoci ora vediamo che succede non dovremmo non dovremmo contare sulla fortuna potremmo ottenere dei risultati controproducenti chi ci avrebbe chi ci avrebbe mai pensato che sarebbe sarebbe trascorso così tanto tempo che ci avessi messo così tanto tempo molto bene allora che cos'è quello? ehi là salve puh esploso che state facendo? non mi sembrate dei semplici viaggiatori non venite dalle grasslands vero? dubito che anche voi lo siate anche voi sembrate diciamo una piccola banda fuori dal proprio territorio giusto? tu sei Lily Pendragon figlia del presidente della repubblica di Tinto come fai a saperlo? l'onore è tutto mio purtroppo non ho abbastanza tempo per diciamo per approfondire il discorso oh oh siamo rimasti qui per troppo tempo dite dite addio dite arrivederci sono pronto vorrei aggiungere un altro elemento di stile alla nostra uscita ci vorrà ci vorrà soltanto un momento ma certo oh vuoi vedere che lo devo affrontare? fermi mi fermerò dopo che vi avrò battuto eh vedi man in black oddio ma sei fighissimo però questa boss fight minchia minchia sta accastando una magia di vento lui oh no fulmine ma vabbè non mi ha tolto tantissimo vabbè non mi ha tolto tantissimo che vabbè non mi ha tolto madonna ma è fortissimo sto vizio minchia eh lui shredding ne ha uno solo porca troia mi ha disintegrato eh ma secondo me è una battaglia scriptata e infatti è una battaglia scriptata questo mi annoia non può essere neanche considerato una sfida sicuramente si potrebbe battere se mi fossi allenato o magari qualche setup non ti preoccupare ragazzino porrò fine alla tua miseria il tuo tempismo è diciamo abbastanza discutibile andiamo loro sono troppo forti per noi che ti aspettavi sono dei cattivi dice si sa che comunque i cattivi non sono deboli lo sappiamo dopo che loro ce l'hanno fatto vedere ecco dato che hanno deciso di risparmiarmi intendo di risparmiarci proseguiamo la nostra strada quindi da qua a quanto pare non ci possiamo andare è chiuso e non sappiamo come andare quindi dobbiamo continuare essendo una battaglia scriptata pensavo mi avessero rimesso di nuovo tutti gli hp e invece sono costretto a ricurare tutti beh sicuramente appena arrivo in qualche città ora mi potenzio a bestia visto che sono pieno di soldi sicuramente ora finalmente posso potenziarmi posso comprare un sacco di robe e devo provare questa cosa dei biglietti della lotteria perché se funziona così praticamente ho rotto il gioco diciamo dalla distanza che abbiamo percorso penso che siamo vicino al diciamo al covo delle lucertole prima ci sbrighiamo meglio è dopo tutto anche io effettivamente sono stanca un bel bagno, un bel letto, pane non vedo l'ora pensi che il clan delle lucertole ha tutto ciò che ha richiesto? beh lo scoprirà presto ah questo è bellissimo il sole è praticamente divino ah è aria fresca solo gli zombie potevano rimanere così a lungo dentro quel tunnel oh e qui ora ci sono le lucertole sergente ascolti è rumore di battaglia questo rumore spade contro spade e non è e non è neanche tanto lontano cioè ed è abbastanza vicino e infatti ci sono i soldati contro le lucertole guardate quelli sono i cavalieri di zexen le teste di ferro che hanno colpito caraia e adesso stanno praticamente colpendo anche il clan delle lucertole sembra seria la situazione sembra seria intendi dire che i zexiani sono sono seri ma perché di nuovo di nuovo sergente dobbiamo unirci alla battaglia yugo torna indietro non lasciatemi qui idioti ecco qua vabbè andiamo di auto dovremmo riuscire a buttarli giù eh minchia non posso andare dall'altro lato che palle ah vedi fanno il doppio attacco madonna mia sono fortissimi yugo e fubar insieme hai ottenuto elmo danneggiato testa di ferro testa di latta può contare sempre su di loro perché si per per organizzazione beh spero che sia così state attenti allora devo utilizzare qualche medicina qui su samus oddio altri soldati e non posso scappare quindi sono tutti incontri scriptati madonna mia madonna mia 700 e passa danni fatto critico perché ce l'ha scritto per due eh vedi critico anche questo uh parry eh vedi loro comunque li fanno i danni eh le riescono a togliere qualcosina e c'è sempre lei non lasciatevi diciamo non lasciatevi diciamo trasportare siamo qui per mostrare la dignità di zexen non per per esterminarli tutti oddio lucia le vostre azioni hanno ben oltrepassato i nostri diciamo i nostri limiti quindi è viva lucia sembra proprio che la maiden oddio maiden vabbè sì diciamo che la signorino comunque la la fanciulla ecco mentre diciamo così stia cercando stia cercando dello spargimento di sangue che cosa aspetta leo non mi aspettavo di incontrare il capo de caraia così presto dopo aver diciamo effettuato le nostre negoziazioni ammiro il vostro il vostro coraggio nell'affrontarmi personalmente ancora una volta non resistivo non resistivo alla tentazione di vedere di nuovo quel bel faccino del capitano dei soldati di zexen di nuovo hai una bella lingua una bella lingua tagliente e tu fanciulla bianca vieni praticamente con la tua spada a prendere le vite del mio clan e tu tieni diciamo tieni in mano quella spada coperta di sangue vieni con la spada sì che hai portato dove hai portato la vita il mio clan e tieni la stessa spada anche adesso se è la guerra che vuoi il vostro tipo di guerra sarebbe questo il vostro tipo di guerra onorabile i caraia non pensano cioè non hanno mai fatto degli attacchi a sorpresa o massacrare diciamo la gente in modo così poco onorabile come il mio predecessore prima di me io il nuovo capo dei il nuovo capo dei clan della lucertola cerco la vendetta percorrerò la via della vendetta i cavaliere di zexen faranno il loro dovere per proteggere la loro gente secondo me c'è qualcosa sotto che ancora non sappiamo tipo qualche informazione sbagliata abbiamo fatto tutta questa strada ma ci sono troppe teste di ferro per diciamo per attraversare la confusione senza combattere che cos'è guardate entrambi entrambi diciamo entrambi le parti si stanno ritirando e dobbiamo ringraziare il nostro grifone ok quindi siamo praticamente quindi di qua non ci devo scendere allora perché da qua andiamo praticamente da un'altra parte no quella parte yugo da lì dall'altra parte dentro il buco eh lo so era semplicemente la mia sporca curiosità che bello però questo posto così questo è il covo delle lucertole speriamo che ci siano negozi cose così finalmente possiamo spendere soldini oh no yugo yugo il nostro ugo è tornato eh e ora come glielo dici che lulu è morto ce l'avete fatto a tornare indietro l'attacco al villaggio è stato terribile posso solo immaginare lo shock del ritrovarlo in polvere in cenere ecco qua già il papero lucia lucia vieni ugo è tornato siete stati furbi a venire qui abbiamo cercato di farvi arrivare un messaggio ma è stato praticamente impossibile o per gli dèi non c'è possibilità non c'è stata possibilità per quello ma dov'è lulu quel bambino sempre che scorrazza in giro finendo in qualche guaio dov'è vi siete separati quel bambino una volta che gli una volta che lo lo trovo nel momento in cui lo troverò una volta che trovo qualcosa di nuovo sparisce come un fulmine lo troverò prima di cena e lo lo rimproverò lo rimproverò sono sicuro che sta bene se voi siete tornati indietro non può essere così lontano arriverà a breve vero ditemi ditemelo ditemi qualcosa per favore ci dispiace luce ero ero lì anch'io e anche lui mi dispiace sergente intende dire che avete perso traccia di lui è questo che intendete vero eravamo lì quando il villaggio di ecaraja è stato bruciato ed è stato in quel momento che il lulu è andato incontro a quella testa di ferro lo abbiamo seppellito oddio lo abbiamo seppellito insieme diciamo sul suolo sul suolo caraiano il più in fretta che potevamo con tutti con tutti i riti propiziatori eccetera ha guardato la propria casa bruciare e ha pensato che appunto e non ha avuto modo di riflettere non ha pensato ha cercato di ha cercato di attaccare attaccare i nemici da solo con il suo coltello ma ovviamente perché ha dovuto fare questo io avevo gli avevo spiegato gli avevo insegnato a scappare adesso io sono qui e lui no un coltello così giovane il mio povero bimbo il mio povero bambino sto bene va bene lucia sono l'unica che ha perso un figlio oggi e non lo sapevo tutti hanno lasciato il party come sta luce le ho dato del tè per cercare di calmarla e adesso sta cercando di riposare madre io mi vergogno sono mortificato una roba del genere comunque si è vergogna al villaggio mentre mentre eravamo lì il sergente mi ha fermato dal non ci sono riuscito non diciamo non io nemmeno nemmeno vendicare diciamo la testa di ferro che ha ucciso Lulu dopodiché il sergente era furioso con me volevo combattere così così fortemente Hugo so come ti senti e non è soltanto perché siamo noi tutta tutto il clan del grasslands deve combattere per per riuscire a sopravvivere Armonia dal nord l'alleanza dall'est e Zexen abbiamo combattuto per anni per mantenere la situazione in questo in questo modo e impedire loro di prendere quest'isola non è cambiato niente però anche quando abbiamo combattuto con tutti i nostri cuori nelle grasslands dobbiamo combattere per proteggere quello che è importante quindi non avrei dovuto sentire quello che mi ha detto il sergente non avrei dovuto ascoltare devi decidere per te stesso che cosa è importante combattere perché cosa è importante combattere e dopodiché devi combattere per quella causa con tutto il tuo cuore io ovviamente mi preoccuperò per te per qualsiasi cosa succeda nel caso tu voglia combattere ovviamente per qualcosa ho cercato di consolare luce e ho cercato di non farle vedere quanto io sia stata felice nel vederti vivo qualsiasi madre vorrebbe provare quella quella sensazione il mio amore per te è forte Yugo e prego ovviamente che non ti succeda mai nulla di grave capisco madre so che lo sai sei un bravo ragazzo così come tuo padre Yugo dove oh eccoci che è successo per favore non gli sta dicendo non avercela con me Yugo una roba del genere dice no per favore non fermarti per colpa mia Yugo so che sei lontano da casa e so che è difficile chi te l'ha chiesto vuoi parlare non ho visto quei tre di tinto per un bel po' quindi ho pensato che potevano essere insieme a te ah beh loro non possono creare problemi stando qui intorno specialmente quella quella Lily Lady andiamo a cercarli se sono spariti anche i nostri altri 2000 focci sono spariti insieme ad essi sergente potresti ti ringrazio non intendo fare lo stesso errore due volte certo Lulu è stata una morte anche abbastanza scioccante improvvisa effettivamente ah però siamo adesso qui in città allora negozi oggetti allora io direi che mi sa che mi faccio un bel giro per conto mio ma sono là sopra loro si vedo che sono là sopra quindi va bene vuol dire che io posso andare in giro per la città senza però senza però creare danno allora questa è l'uscita giusto si qua è da dove siamo usciti quindi non mi interessa lì invece che cosa c'è ah ecco armature e fabbro yes esattamente quello che volevo oh oddio ma tu sei il fabbro fino a che livello fino alle 9 vai let's go ok ho fatto un giro e mi sono potenziato le armi le armature ho fatto un po' di roba e quindi ora andiamo a vedere che succede qua ho incontrato anche alcuni personaggi eh non riuscire cioè non riuscirete ad estrapolarmi dei segreti cioè anzi no there is no point in keeping quindi non c'è motivo di tenere diciamo di tenere segreti con me milady il tuo parlare insulta il nuovo il nuovo capo clan sheba sheba questa storia potrebbe essere interessante fammi sentire di fammi sentire questa figlia del del capo della città di tinto non sono esattamente una racconta storie sto cercando il sto cercando il firebringer dovete dirmi tutto quello che sapete riguardo a loro cioè i firebringer i portatori di fiamma i portatori di fiamma questa è una storia molto molto vecchia firebringer beh immagino che tu immagino che questo termine per te non sia così familiare perché tu vieni dal sud quando quando ero giovane ho chiesto spesso a mio padre di raccontarmi di questa oddio about le gesta dell'eroe joe e dei firebringer quindi è veramente il sergente il file cioè oddio ma è un difetto dell'emulazione mi sa questa che vedo i colori tutti sballati eh sì la scorta è piccola l'unica squadra l'unica squadra diciamo è una preda facile attaccata al mio segnale come sempre giusto come sempre più di 50 anni fa più della metà delle grasslands erano invase dal dal sacro imperio di armonia molti clan finirono sotto il loro controllo incluso anche il nostro anche i clan al di fuori del diciamo del territorio dovevano pagare un tributo nessuno avevano avevano messo in discussione tutto ciò la loro armata era impareggiabile qualsiasi tutti i clan combinati non avevano possibilità per affrontare un solo battaglione di armonia ma il flame champion joe e il firebringer e la sua squadra di firebringer erano non avevano paura ce ne sono più di quanto ci aspettassimo oddio che si sta ok se ce ne fossero così tutte le volte dovremmo ritirare ci saremmo dovuti ritirare leader che cosa dovremmo fare con tutti questi con tutte queste ricchezze le le riporteremo indietro alle grasslands eccezionale brillante ma come faremo a fermarci alle grasslands come faremo con armonia eh giusto il il migliore degli schemi dovrebbe essere sì il migliore il migliore dei sì il migliore dei progetti migliore degli schemi il loro battaglione era piccolo ma la voce si diffuse in fretta di questi firebringer di questi banditi dei portatori di fiamma che avevano praticamente raidato i trasporti di armonia queste voci hanno permesso al clan di diventare più coraggiosi e speranzosi e presto un uomo li li guidò tutti quanti tutti quanti insieme e alla fine il confronto finale arrivò quindi è così questa è la nostra ultima battaglia let's go la vittoria sarà nostra vittoria oddio però col bastone così somiglia tremendamente a mcdoll la forza di armonia diciamo perì in modo fiero contro le forze di grassland guidate da joe il flame champion e questa questa era la parte peggiore della della storia perché da nessuna parte ci fu comunque una chiara vittoria nessuna delle due fazioni ebbe una chiara vittoria che cosa è successo successivamente al campione al flame champion nessuno lo sa veramente non è mai stato più rivisto e dopodiché armonia non ha più cercato di riconquistare le grassland di nuovo nessuno è sicuro di quello che sia successo a lui alcuni dicono che se ne andò lontano nel continente a ovest o che sia morto in battaglia ho anche sentito che adesso vive la sua vita addirittura ad armonia ecco perché dovresti rinunciare a cercare questo flame champion tante storie sono state raccontate su questi portatori di fiamma ma alla fine non sono altro che delle storie niente di più gli eventi di cui vi ho parlato sono avvenuti 50 anni fa in questo caso dovrebbero essere 80 anni considerando i giorni di oggi molto troppo vecchio per per molti degli umani di voi da vivere se la tua missione era praticamente questa ti consiglio di smettere questa follia e tornare a casa ok quindi a quanto pare non abbiamo concluso niente per il momento va bene detto questo ragazzi io per il momento vi saluto e come sempre vi aspetto alla prossima ciao grazie a tutti Grazie a tutti.